Ma devo dire che questo atteggiamento è non solo incomprensibile ma totalmente incoerente con quello che è successo nel passato. La parte lesa è la cittadinanza di quarto che secondo l'ipotesi ovviamente che sta sviluppando la magistratura sulla base delle intercettazioni ha subito una elezione comunale inquinata da una indicazione di voto svolta dalla camorra e quindi quello che si deve fare in quel comune probabilmente è chiedere lo scioglimento del comune perché non è che una questione riguardante solo un assessore che è stato espulso dal partito è il meccanismo elettorale che va verificato se cioè quelle elezioni municipali si siano svolte regolarmente ovvero siano state inquinate quindi inficiate dalla pressione dall'inquinamento della camorra e è bene in questi casi è sempre bene non usare due pesi e due misure il movimento 5 stelle usi verso se stesso e verso i comuni che amministra la stessa morale che usa sempre contro gli altri partiti